Assolutamente sì, c'è stata questa sentenza della Cassazione che è la prima volta che annulla una sentenza del Consiglio di Stato ad adunanza plenaria e quindi è importantissimo, a differenza di qualcuno che dice di poco conto. Sicuramente attendiamo la legge da parte del governo Meloni, ma c'è da dire che comunque con questa sentenza viene annullato il termine come 31 dicembre 2023 in quanto oltre alla sentenza non c'è nessun altro titolo che ci dà la scadenza al 31 dicembre 2023, c'è la legge Draghi successiva alla sentenza del Consiglio di Stato dell'agosto 2022 però questa legge comunque dice che il termine è stato prorogato di un anno al 31 dicembre 2024 quindi ci attendiamo che magari entro fine anno sarebbe più opportuno per dare più luce ai nostri investimenti dell'intero comparto balneare ma al massimo nei primi mesi del prossimo anno sia fatta appunto. Sono quasi 15 anni che comunque gli investimenti vengono fatti con un orizzonte molto limitato, molto breve perché comunque ci sono state varie proroghe ma poi interrotte appunto dalla sentenza del Consiglio di Stato quella più lunga, magari quella più lungimirante che potevamo fare degli investimenti che vedevano oltre 15 anni investimenti fatti per un anno o due anni di programmazione sono investimenti di piccole manutenzioni o manutenzioni ordinarie quindi per fare investimenti e rinnovare le nostre attrezzature ma quant'altro i nostri spazi all'aperto quindi Ari De Orga, Zebio, quant'altro comunque serve investimenti per fare questi investimenti servono almeno nell'ordine della decina di anni e non di singoli anni Siamo quasi convinti che entro fine anno il governo Meloni che comunque sta seguendo un percorso il primo governo appunto che segue un percorso, quello del tavolo tecnico per riconoscere un fattore importante quello della scarsità o non, in questo caso si è visto che non c'è scarsità della risorsa in quanto occupiamo il 33% delle aree concedibili a livello nazionale quindi c'è oltre il 60% concedibile quindi la Bolkestein non deve essere applicata come lo dice la direttiva stessa e lo ha detto, l'ha ribadito la Corte di Giustizia Europea ad aprile di quest'anno appunto quindi attendiamo un provvedimento che tenendo conto della Corte di Giustizia Europea e tenendo conto del tavolo tecnico appunto ci allunghi le concessioni e tuteli i nostri investimenti fatti da oltre 100 anni in Italia